Noi pensiamo che i saldi andranno bene, anche perché la stagione quest'anno non è ancora cominciata, per cui ci sarà sicuramente un vantaggio da parte dei clienti di comprare in saldi, anche perché saranno saldi di qualità. È ancora un momento, secondo lei, in generale, molto appetibile per la clientela, quindi un momento proprio per fare acquisti un po' superiori a quella che è la media? Beh, direi proprio di sì, anche perché gli sconti vanno dal 20 al 50%, pensando che la merce direi che è tutta nuova, per cui sicuramente ci saranno dei vantaggi. Non ci sarà più la corsa come c'era una volta nei primi giorni, ma ho visto che ormai da due o tre anni a questa parte si sta diluendo il lavoro, cioè si lavora e i numeri si contano proprio al fondo della stagione, ad agosto. Per voi ci sono anche delle novità normative, proprio di derivazione europea? Sì, diciamo che adesso hanno fatto la nuova legge, che speriamo venga rispettata anche dalle vendite online, dove dal prezzo più basso bisogna fare lo sconto. Quello che c'è in vetrina, da quel prezzo lì, se hanno messo fuori il prezzo già scontato, dovranno scontarlo ancora di più. Mentre quelli che fanno la vendita online avranno lo stesso discorso, cioè se stanno facendo un prezzo basso adesso, dopo dovranno abbassarlo ancora di più. In genere com'è invece il comparto della moda? Allora diciamo che anche il lavoro dall'inizio dell'anno 2023 è ripreso e abbiamo avuto solamente un po' di calo causa alla stagione nel mese di maggio, però poi diciamo che la stagione finora è positiva e adesso con i saldi sicuramente sarà ancora più positiva. Il comparto della moda diciamo che vedo che continuano ad aprire negozi nuovi, per cui diciamo che è ancora sano e speriamo che continui così. Sì, sì, sì! E poi! E poi? Grazie a tutti.